buona ragazzi con gx player siamo qui qui con gx player parlo velocissimo oggi siamo qui alla prima parte del unboxing del mio caldo tutto il compito e quindi oggi parliamo di un unboxing ovviamente i pacchetti saranno persi oggi e altri giorni perché ripeto oggi non sapevo che arrivava a meno un pacchetto l'ordine ho fatto ieri che è 21 verso le 4 e oggi stamattina è arrivato un primo pacchetto ovviamente è questo qua ah della grande idea dici ci sanno più di un prodotto magari invece c'è soltanto un prodotto ovviamente noi prendiamo il nostro caro forbici lo poggiamo per terra c'è ragazzi incredibile l'ordine l'ho fatto ieri pomeriggio e stanno c'è neanche un giorno mi ha fatto aspettare neanche un giorno grande prime adesso lo apro nel frattempo stop il video perché se no non riesco a fare u2 vince ci provo eh ragazzi ci provo con una mano ce l'ho fatta con una mano ah madonna ah olè già qualcosa si vede ah già qualcosa si vede eccolo qua ovviamente eccolo qua il nox pad parks sarebbe il nostro caro nuovo caser perché ripetiamo noi dobbiamo fare un nuovo computer e ho deciso di farlo da quasi zero perché ripeto questo mio progetto eh ho uniche pezzi che tengo nel vecchio pc che quello la sono la scheda video e la e e e e e e come che si chiama e la memoria mentre tutto viene cambiato adesso poso un secondo perché devo aprirlo e ci vediamo dopo arrivo a prima parte superiore appunto questo video sarà secondo perché io piccio ho toccato il possante power allora mi poggio così ah vedete un cazzo voi però sto fagliando e da solo e alla mia aspettata mercoledì eh scusami domenica prossimo anzi apri la testa però dici no voglio aprire la testa ah ah i mortacci wow è stranzo sei messo contro la persona ah sbaglia ecco giura ah 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 se ti butto qui non mi sto facendo l'amore porca troia adesso tiro fuori ma visto che tanto lo vedete sempre nel stesso video ve lo faccio vedere in un altro giorno ok così lo prendiamo insieme io e il mio caro amico che lo sapete tra poco sempre nel stesso video poi voi dal commento dal dal titolo già sapete tutto chi c'è bella ragazzi qui con la seconda parte ovviamente non c'è ancora il nuovo amico perché lo vecchiamo in 30 però dentro lo vediamo a montare quindi oggi faccio tutto unibox questa è la seconda parte la seconda parte dell'unibox è è arrivato il secondo pezzo adesso andiamo a aprirlo ma vedo che già ben cioè io non ho fatto niente già già aperto fabbici non mi servono hopla ho 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 ecco qua eccolo qua il primo il processore ole dopo lo andiamo a vedere dopo quanta carta c'è ah ah carta in più che se andiamo a buttare poi ole il culo oh no questo è più grosso culo master 400 mamma mia un'altra bestia qui la ventolina che metteremo al caser che adesso è fuori però è qui la scheda madre la prima parte di smontare è ancora vuoto è ancora vuoto dopo sarà pieno adesso smettiamo un po' anche l'altro che deve portare un po' di roba di qua la due cose questo qui è antiquariato si è vecchio vecchio ha fatto già il suo lavoro molto con quello nuovo che è tutto qua davanti e allora devi cambiare qua eh si purtroppo si prendiamo già il mio componente la scheda madre qui dentro hai già fatto tutti gli spacchettamenti si ma non ho ancora tutta la sua cosa che ho scelto tutto lì dentro sono aperto l'ho visto e poi non ci troviamo dentro però è bellissima che figata sta scheda madre consigliato da Yoshi che ovviamente lascia lo link sul canale e mettono anche i nostri acquisti insieme alla lista così se vuoi uno simile Tommy in mezzo alle scatole ciao Tommy bene ebbene non ci vediamo dopo perché sennò non finiamo più dopo facciamo pezzo dopo pezzo sennò qua non riusciamo più a finire niente almeno io poi lui bo hai dopo siamo ancora qui io ho toto l'hard disk e e cd rom non ho ancora girato niente perché qua mi ero dimenticato che dovevo svitare questo e avvitarci quest'altro ci vorrà un po' di tempo allora ma il video sarà molto breve perché noi tagliamo troppo vero Yoshi esatto tanto tu fai un taglio zack un attimo semo io faccio un video stop e bye poi dopo continuiamo perfetto eccolo qua il processore dopo metteremo anche il loghetto e che era la fine lì con quello con quello grosso che io ho visto che il video precedente mi piacciono il video stesso io non so cosa farò insieme ho toccato la cosa sarebbe quella roba lì che io non so niente sono imbranato ecco io piccolo ho toccato sono pusso di schifo e lui mi ha detto lavatene male subito è tossico e io non lo sapevo genio sono un genio ragazzi miei allora adesso sto avendo un problemino Yoshi che non trovo un cavo del pulsante anche il cavo della luce e dell'accensione si dice così e noi per la cosa blu e bella che abbiamo sbagliato la ventolina troppa grossa perché doveva mettere lì quindi chi la vuole la donce 8 euro 9 euro 8 euro sì invece noi dobbiamo tenere quella vecchia che è qua purtroppo ci tocca funziona quindi ventola hard disk dividi dal vecchio al nuovo quindi questo qua sarà un nuovo vecchio e niente ci vediamo dopo quanto qua continuiamo a lavorare cioè lui io cosa ci ho fatto troppo eccoci qui adesso montiamo il nostro caro cool cool il cool master cool master cool master è molto grosso molto potente adesso lo montiamo adesso lo montiamo lo monta lui cosa adesso lo monta lui lo monta lui questo allora ci vediamo dopo ci vediamo dopo a montare tanto la vediamo che a parte facile l'abbiamo fatta facile easy very easy molto che non posso ancora trovare quel cavo che manca presumo che sia quello la presumo che sia questo ma non ne sono ancora sicuro se rimane solo quello è rimasto cioè quindi dubito che sarà quello infatti ragazzi non vi linkerò questo case perché mi sa che tutto il resto si no non mi metto neanche la ventola perché vediamo 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 metto i pezzi normali e boh ci vediamo dopo eccoci qui con il montaggio del processore cos'è quella roba che hai messo tu lì è solo il blu questo qua è praticamente per l'elettricità statica mentre tira una scossa a qualcuno anziché tirare al processore e farlo morire eh sì la tiro quindi ragazzi fate come lui che è esperto sta a fare già i lavori quindi molto meglio molto meglio si schiaccia e tira su poi si prende non c'era solo uno non due o due no no solo uno perché negli altri vedevo che c'erano più di uno eh ma questo questo è molto ragazzi di questo questa ram no che sto dicendo vabbè questo case ragazzi non lo prendete perché abbiamo avuto altri problemi quindi sto case non ve lo consiglio esattamente prendete un case molto più caro cose varie anche soltanto 5-10 euro in più sì anche 5-10 euro in più abbiamo esterito il nostro buon processore vediamo e ci vediamo di nuovo dopo bella abbiamo finito sono le 12 e 11 abbiamo tipo 5 minuti 10 al massimo abbiamo finito adesso lo testiamo giusto si accenderlo accendiamo aspetta arriviamo adesso accendiamo paura adesso esplode la luce va la luce va ci abbiamo attaccato cosa manca devo girarlo devo invitarlo non lo so no 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 ho fatto peep oi 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 ora va cazzo new cpn style play setup configure system not cable detect è la testiera fuck ok ok ecco qui mo lavora lui oggi è 29 mettiamo allora diciamo che ore sono non lo so è tardi è vero che ore sono 14 no le 13 sono le 12 e un quarto ok mettiamo 15 12 facciamo salva poi te lo cambiamo ma cos'è 12 15 no 12 solo le 15 no 10 12 eh 15 minuti ah va bene ma che minuti vai ecco qua sai salva ok qui c'è tutto mentre sei grave qui poi tu te lo cambi non sono capace ma salva esci ok adesso vediamo se parte oh ci siamo ho paura momento momento della verità ho paura comunque già comunque già si è acceso intanto io mi ritiro a mia uva si si ok perché qua stiamo correndo però si va 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 esci tu minus 10 funziona guardate ma quanti chiudi tutto quanto te eh adesso chiudo io tu quanto qui tu puoi ragazzi chi vuole vendo la ventola a 8 euro la ventola led perché abbiamo speso quella sbagliata e niente ci vediamo dopo adesso metto a posto e ci vediamo dopo ok ragazzi allora abbiamo finito adesso il computer funzionale se lo mettiamo poi mettono di mondo nella mia posizione ringrazio ancora a Fasoshi per questo lavoro infatti mi trovano su l'iscrizione e quindi se volete montare il computer passate da lui che lui lo fa pure più bene è grandissimo niente io ho un cane che non prepara stamattina perché lui ha i cani i gatti cose varie quindi adesso questo pezzo lo smonteremo da solo se qualcuno lo vuole lo vuole così perché manca l'hard disk e la vento perché l'ho rubata qualcuno vuole della ram c'è c'è la ram c'è tutto tipo voi lo do tutto tra l'intera via tra l'intera sono bravissimo e niente ci vediamo al prossimo video ciao da Jackie e Yoshi al prossimo video ciao